Quest'estate abbiamo organizzato la mostra sulla Prima Guerra Mondiale, con particolare riferimento al ruolo che ha avuto la Regia Marina sulla Prima Guerra Mondiale. È una mostra che ha avuto un buon successo, non è che lo dobbiamo dire noi, però lo dicono le numerosissime firme che hanno posto i visitatori. Adesso, sabato prossimo, organizziamo una mostra di modellismo navale, tutte navi militari, sommergibili e navi militari. Abbiamo avuto la collaborazione di modellisti e abbiamo, francamente, dei bei pezzi e speriamo che i fanesi, anche questa volta, non ci tradiscano e vengano numerosi a visitarla. Quando sarà aperta? Dunque, l'apertura e l'inaugurazione avverrà sabato 24 alle ore 17 e la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19.30. I festivi, invece, abbiamo anche la mattina dalle 10 alle 12.30.